Musica Questa era? Sì Eppure io non mi rivolgo Ma siete pronti? Eppure io non mi rivolgo Ma ci sono i vestiti sbagliati Andiamo così dritto per dritto e buonanotte Mettete continuo, la facciamo pure in mano Ma guarda un rilevo, mi scherzo Vai ragazze, per prego non ci vuole, se per prego vi supplico Eccomi qui Eccomi qui Ma guarda un po' 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 Mi prego Mi prego Mi prego Mi prego Vi prego Vi prego Mi prego Noi siamo due contro tutti Però vabbè Vi spira due L'hanno fatto inizio Mi spira due Vi spira due Oh, guarda con me è un trucco Il cresino e la e e e e e e Anche da destra Anche da destra Anche da destra Ma dove mi sto mostrando? Aspetta Fammi recullare un attimo Arrivano Dici di andare o ancora no? Posso andare secondo te? Andiamo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo la bocci 6 che ha sbagliato 3 2 1 vai la bocca france fanno la persona vado non è che mi cura io metto più botte nooo figura subito, figura subito, non fa niente ora devo trapanare poi devo aggerare per inserire le sale o no? eh? qua giù ci sta curando la porta ma non c'è la miseria e buonassi ecco ecco che devo fare ora? fate voi 2 da 1 e 1 fuori la pace no, sto facciando, al più ok facciamo la faccio in giro vai andate da entrare è ora? ora mi prendo più soldi possibili prendete i soldi, prendete i soldi prendete i soldi prendete i soldi è veloce napbo, prendete i soldi e preme i soldi paolo se tu mi sce la volta e io mi sce la volta io mi sce la volta paolo vado in giro devo dare il giro qua davanti o devo fare il giro? ma ma fai giù, fai giù eh? Eh, ho bisogno di andare avanti dove devo far giro a sinistra. Come si mette qua la carica? Oh, io l'ho messa uno su D, eh, non ho... Fai, apri, apri tu. Non hai più soldi possibili. Sì, io sto prendendo qua. Cioè, F è aperto, vedete, vedete che c'è pure F aperto. Dai! Ma con F non è aperto. Oh, non è aperto F. Ma si è aperto. 40 secondi, dai dai! Quando consiglio di uscire? No. No. Eh... Un ultimo quando volete. Ma io sto continuando a prendere. Vai, prendi, prendi, tu prendi, prendi. Ma è come il bottino è buono o brutto? Mannaggia, mi sai che mi sto rendendo condoni. Lo riparlo quindi, perfetto, bene. Quanto è il meno per essere buono? No. Ah, bene. Tanto 8 di 5-5 la fa bene. Uscite, uscite, uscite. Uscite. Chi ti riparla? Eh? No, no, no. Non mi fate spara. Ma che cosa? Qui è spara? Ah, pure io ho dovuto uscire le schede. 3. Eh, niente di sbagliato. Aspetta. 3. 3. 2. 1. Vai. vai cercate di non farvi sparare eh vago ci proviamo io ho il giubbotto, ho tutta la vita e tutto il giubbotto io non ho giubbotto non me la fa mettere c'è man para doppio se siete avocati Dove dobbiamo andare ora, dritto per dritto? Sì, avanziamo, avanziamo, avanziamo! Sì, 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 avanziamo! Pagina che c'è la prima! Sto curando io Stavo giusto qua anche dove? Quello il body ero doveva andare questo paro stagli stupo a un marino a potete esce belle pura linda l'anglese del terretto no noi diciamo niente ma giù hai mai messo usciuto due ore da una stanza che non c'aveva anche se potessi trasissi ce l'avevi il pompa? si, è usciuta bella e buona da dietro il lager buono con uno trovo io no, no, no no, no no, no Grazie per la visione Ho trovato 5.000 di Vimo, sbaglio Ha tolto 5.000, la sua prima era 1.600 L'hanno sparato E ti sparano e ti docono, ti caccia soldi Non ti nascondo, sto fotito Se scendiamo per scale, ce ne facciamo 1 Occhè al pompa Occhè al pompa, ce n'è 1 a destra Occhè ma vedi il giubbotto? No Hai visto una stecca Metto per metto il giubbotto Occhè a destra Occhè a destra Occhè a destra Occhè a destra Stanno sparando da dove ma? E via, uffi L'entra è qua e dentro, visto? Visti? Occhè a destra Occhè a destra Occhè a destra Occhè a destra Ma ma cazzo ma visto ma ancora Occhè a destra Qua gente devo entrare ora Eh, ragazzi ma dove siete? Ma dove siete? Ma dove siete? Ah ve l'ho detto già Ma non entriamo la porta a sinistra Ma non questa porta Ma non questa porta Questa porta L'avete fatto? Sì Mi devo curare un attimo Io voglio Ah boh Paco, 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 Paco Paco Cioè, Paco, ma tu che entri così, no? Ah boh Vabbè 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 mi è sbagliato, ho fatto contina peggio della WN, peggio della WN scusse guarda a peggio della WN, peggio della WN anche se peggio guarda a peggio della WN, peggio della WN No! 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 Sì! 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 Scusate se faccio un po' cagare, però... non so, va... pure che stiamo finendo... non so... dopo facciamo lo stesso con i due fatti! Sì! 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 Ho appena entrato sulla destra! Ce ne ho uno! Non mi devo prenderla! Non mi devo prenderla! Sì! Niente! Ragazzi! Mi dovete coprire da dietro, però! A posto è morto! Siamo due da dietro! Siamo due! Siamo morti! Vado! Siamo due da dietro! Che ha appena entrato! Sì! Pago! Ci stai disentuando! Bella idea! Che cazzo è questo? Pago ma che cazzo è con... Non lo so! Mannaccio! Oh! Manni! Ma chi ha fatto delle damme, quando è? Pago! Pago! Sposta di Pago! Pago! Ma Ron! Ma di cazzo vuoi? Tu sei né merda! Pago! Pago ma tu si fermi a reventi un upon root! Bella buona! Sta bruciando tu! Casi no sta bruciando! Siamo arrivati a me! Ma che fa? ah ma che fa, fulgati 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 è quello che mi spara mmmm insomma se tu non copri, mi spagono tu mi stanno sparando ah io io mi faccio pasca e vabbè ma io mi sa che qua, fago mi sa che qua non vorrei tenere una cazzata dovevo passare dobbiamo andare a destra ora lì dentro dobbiamo andare dove c'è il coso può passare mmmm eh no, dico per minuti della stanza da tutta questo è questo che vi temi guardate lo volete curateli e usciamo curateli e usciamo mo ah, mo c'è la cosa difficile eh marone che servazio subito a destra subito a destra col pompa subito a destra col mitra oh oh ma c'è sta uno da tre guardate almeno ce l'ha salvata qua la cosa Christian buongiorno almeno almeno questo mamma e ora per scappare cosa dobbiamo fare per scappare? dobbiamo arrivare ai veicoli per la fuga oh no armi a terra o si riesco ad andare a tre fili devono guidare due persone ma dove dobbiamo andare? dove andiamo? desce 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 che cosa dobbiamo fare? che cosa dobbiamo fare? non c'è che cosa dobbiamo fare? che cosa dobbiamo fare? un po' sempre avanti andiamo sempre avanti no No, 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 no. dritto 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 dr Usciamo da qua. E ora? Chi deve guidare? Sono due veicoli, uno guida, l'altro no. Io lo vedo. Vabbè, guidate voi. Andate alle fogne. Vabbè, non so che stiamo andando qua. Guarda, 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 è da po' va bene. Ma cosa dobbiamo andare? Sì, non so che stiamo andando qua. Io sono morto, io sono morto. Mettere, metto alle ore. Vai, vai, vai. Mettere, metto alle ore. Mettere, metto alle ore. Guarda, guarda a me. Dove sono le fogne? Guarda, qua, non vediamo meno. Pagobi, va, vai. Pagobi. Pagobi girà, pagodi girà. L'indio è tra la fogne. Vai dove? Mi Mi chiamati Ora Stamie E' un pezzo Sendo qua Sì Venite qua da me, venite qua da me Quasi c'è un pezzo Quasi c'è un pezzo Quasi c'è un pezzo Quasi c'è un pezzo Vabbè va a venire La cosa è un pezzo Deve seguir la strada Ora Seguide la strada E' un pezzo 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 Papà con è morto E' un pezzo Papà con è morto Ma Seguire Umo, mi un 3 è buono o è buono? Questa a scrivere un 1-3 Stai trovato Tocca rifarlo Tocca di un pò Stai trovato Tocca-di-pakà Non c'è Tocca! Tocca-di-care Quanto prendo io? Età Mentre Entretta non è che ci faccio tutto il tempo capo il brodo ci faccio ma io non c'è mai rimanere fino a che vedi è il sabato e questa è una destra destra distra destra vieni a lui qua ora pago, se non hai capito se non sai perdere voglio ora vieni a la qua si non vieni 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 Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Dov'è qua? Ma che ti sto vedendo? Vado la curva qua 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 Quinte Va con la curva qua Le sò f pas Nooo Qu Sing it No 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 Mia qua che devo fare ora? il bate? qua il bate? si 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 abbiamo fatto ci si ma tu è l'hacker buono tutti i soldi che hai fatto tu ma come l'hai fatti? c'è sé che vuol dire ogni gol tutti i soldi 4 milioni di oppressori e tutto con i gol tu non ha fatto Ah Non mi viene una colpa Con il 500k falleza è vero Amen Amen E poi le faccio in due questo colpo Amen Bene Quante volte ti resti con due? Ah, bene Qualcosa stai sentendo, si? Un po' Non ho sentito poche niente, ho sentito la canzone su Ti ha detto? Poche niente, c'era la canzone sotto Se manco io ho cedito così tante Ah, c'è un modello che questo qua l'hanno fatto in due E hanno fatto due milioni e mezzo Pazzo Pazzo Sì Oh, la canzone è lì 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 Poi, secondo me ci abbia permesso troppo da andare a prendere i soldi Con i soldi Ah, perchè dobbiamo avere l'hacker buono Dobbiamo avere Poi ci siamo andati a potere Ci siamo andati a filare un cavolo Lo vogliamo arrivare Fa come potremmo arrivare C'è e poi la canzone giù C'è Planet Unifici Dipbo mess non va a regalare dei salti strani che se ci lo diamo è finito insomma basta basta mi sono caccato in mano ciao Gemma ma che cazzo vivi della finestra mi hai fatto capare in mano ciao Gemma ciao ma guarda Paco guarda come sono larghe le braccia guarda come sono larghe le braccia guarda ma Marco dove sta? ma che fai questo? ma che fai questo? uff uff pure che l'audio busy ma Marco guarda reddish che l'audio busy vittoria darkshade agenda dai qui faccio vettere un pochi si come bagno potenziale 2-1 un milione 211 211 zomber schaiolo mi mi hanno detto i c***i di machia e mo? adesso si balla oh che è questo? eccomi ma perchè sto questo da pesciaioli? guardami ma sono da pesciaioli guardami ma sono da pesciaioli sto pesciaioli guardami ma guarda guarda guardami ma tutto quanto è vissuta guardami ma tutto quanto è stato buono sono vissuta da pesciaioli guardami ma prego le vasi la campotta c'è lì sono guardami dav sólo guardami ma tutto quanto è vissuta è qui guardami� Oh! Mamma mia, tu schifo... Il tuo caffè non lo fai tagliate, ma tu schifo. Mi stava neccando le caffole, io pagliato. Mamma mia, tu schifo. Mi ha rispito, i baroni bombe, ma tu schifo. Il corpo è riuscito, io lo faccio e le faccio. Mamma mia, tu schifo. Ma che rimane c'è un'esplice Ok, guardi